Tipica camera giapponese che stiamo per abbandonare, quindi tatami, qua ci sono gli armadi dove ieri sera c'erano dentro i letti e là c'è il salottino con il tavolo che di solito quando arrivate è qua in mezzo. E l'altra curiosità è che i giapponesi fanno tutto all'incontrario rispetto agli occidentali, e la ciliegina sulla torta è che se da tutte le parti per aprire l'acqua si alza, in Giappone si abbassa. Ciao a tutti!